Tutto pronto per la prima rassegna teatrale e amatoriale 2016-2017 in programma presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli. Si comincia il 7 dicembre con Tio sposato per ignoranza di Gianfranco Gallo a cura della compagnia teatrale Il Sipario e con la partecipazione di Umberto Anaclerico e Alfredo Crisci. A seguire il 14 dicembre Natale in casa Cupiello di Edoardo De Filippo a cura della compagnia del teatro instabile. Il 18 gennaio invece andrà in scena lo spettacolo teatrale se devi dire una bugia di La Grossa ad opera della compagnia Il Poliedro. Il 24 febbraio la compagnia e la proposta metterà in scena Le presento i miei di Alfredo Crisci. A seguire il 15 marzo si terrà lo spettacolo teatrale Compagno, anzi caro amico, di Antonio Sapienza e per finire il 12 aprile si terrà Arezzo 29 a cura dell'associazione Ennio Balbo. Il ticket per il singolo spettacolo posti non numerati è al costo di 6 euro mentre l'abbonamento comprensivo di 6 spettacoli è al costo di 25 euro. L'orario d'inizio degli spettacoli teatrali è previsto alle ore 20 e 45.